Ciao a tutti, io sono Andrea e benvenuti a questo nuovo video di Minecraft, e indovinate dove siamo tornati? E? Il Landicraft. Prima di tutto vorrei farmi notare una cosa. Addio, queste nuove impostazioni, mamma mia. Notate qualcosa di diverso? Ancora no? Siete scuri? Eh, Luca forse avrà già capito. A parte che ragazzi ho migliorato, ho fatto molto di più il sentiero, tipo... Oddio un bribe, oddio, non ho frecce! Dammi una freccia, dammi una freccia. Grazie. Oddio, ma cosa? Ma quello è uno scheletro con la testa. Oh, tantegano. Adesso, ma quello è veramente uno scheletro con la testa. Chi è? Le insumi con la testa Halloween. Oh, è vero che oggi è Halloween! Eh, vabbè, però... Cioè... Posso dire tutto, però... Perché è clipper con la testa Halloween, no? Però... Discriminazione? L'Axolot, ma anche potremmo fare un regalo per Natale, tipo... Quando ti regalo un Axolot, il blu... Tutto blu... Già, sto schifo... Allora, come potete vedere... Ho migliorato... In ingresso di casa mia, vedete, ho messo questa cosa qua... Vabbè, tutto si entra... Guarda, è carino... In casa mia, ponente... Poi dopo qua, dove c'è un bel solito stradina... Qua non c'è mai stato un ponte... La sua età stradina per arrivare a casa di Luca... Qua ancora devo decorare i primiati... E poi invece sto continuando la strada... Per... Il castello, il lettore... Tutto bello decorato... Poi, perciò, ha detto... E' una parte super corribile... Cioè, non so perché... Come mi è venuta di farla così, però... Ah, no, è vero... Qua l'ho finita tutta... Ovvero... Quindi adesso... Le ho iniziato un pochettino a... Da disegno... Ragazzi, sono le 7 e 10 di sera... Non potete... Non potete criticarmi, scusatemi... Non potete criticarmi... A quest'ora... Ma siccome la scorsa volta hanno fatto una scherza a Luca... Vorrei vedere se oggi l'hanno fatto... Ma che vai gli sti alberi... Allora... A parte sta del sistema... Che è orribile... Però... Allora... Tutto a posto... Qua sotto in magazzino... E' tutto ok... Ora per il cavallo di Luca... A causa di Luca... Tutto a posto... E' veramente tutto a posto... E non mi immaginavo tipo una cosa strana... Qua non c'è più... Ma scusa Luca... Dove la tiene la sua niente di vita? Sì... C'è un dubbio... Dove la stiene? E' visto che si chiede... Così... Allora... Libro... Allora... Allora... Io ti ricordo Luca... Che... La scorsa volta... Io ti ho risistemato quello... E ogni cosa sono... 9 blocchi diamanti... 9 x 1... 3... 4... 5... 6... 7... 7... 7 x 9... Ah... Adesso ho il suo riprecato... Ah... 7 x 9... E' 63... Quindi... Mi devi 63... Di diamante... Lo... 7 x 9... 63... aiuto stavano un dubbio aiuto sì quanto fa 7 per 9 63 anni ancora non sono abbastanza ora sono 64 ma questi sono i miei quindi mi devi dare era un 53 quindi mi devi dare altri 10 diamanti però siccome sono buoni e andiamo a depositarmi ok molto semplicemente andiamo a casa mia oggi non me l'aspettavate nessun libro continuiamo nelle casse non si sa mai ovviamente il nostro solito edit house 29 mi verrebbe da dire mia madre è entrata al mercato ma non sa neanche come si apre minecraft quindi non lo so cioè non è che non lo sa mia madre ha un buon mestiere non è che non è buono nel senso che non si gioca questi giochi quindi non è dubito qual è la accessione di diamanti ecco allora allora mettiamo tutto l'anile dell'euro di tendo verano da un mese la testa di l'ender dragon qua non c'è più devo prendere il ferro no? dove è il ferro? oddio sto timer dove è il ferro ragazzi? dove è finito il tutto il mio ferro? io mi credo di avercene tanto eccolo mamma mia com'è disordinata devo prendermi 4 secchi quindi 7 3 per 4 12 ora lo faccio mostrare ora lo faccio mostrare 1,2,3 e 4 perfetto il ferro ci mettiamo qua adesso è stato un strutto alimentare questo schifo lo mettiamo da questo lato tutto schifo qua andiamo a prendere dell'acqua per questa roba qua sopra ci voglio mettere un dettaglio un po' più carino ok andiamo ma ce l'ho un po' dopo 10 ce l'ho una fonte infinita d'acqua ma io non mi ricordo di avercene fatta ecco sì qua ce l'avevo no non ci vuoi oddio non riesco mai a prendere i tasti sono abituato sicuramente che nella tastiera arriva al massimo dei numeri due quindi due o quattro quindi vabbè lascio mostrare ok quindi oddio non me lo tengo in mano lo sai sapete come ma qua si apre ok oggi gioca estrane what moment questo è un po' strano effettivamente poi nelle botte così o beh Minecraft è bugato lo sappiamo tutti che Minecraft è bugato lo sappiamo tutti ma sì ma dove sono i miei iscritti scusatemi cioè io vorrei sapere una cosa perché tutti gli altri bambini che fanno YouTube vanno 1400 iscritti 1200 200.000 e fanno video a un mese io che ne faccio l'altro mese ho 23 iscritti perché? eh? non mi piace? io sono triste cioè guardate molto più figlio l'effetto allora io stavo pensando già che penso scrivetevelo e sto pensando a fare un piccolo scherzo a Luca che c'è no se è troppo cattivo sarebbe troppo cattivo questo va detto ragazzi che c'è da lì c'è la vanilla perché? ci vogliamo rendere conto che mentre io costruivo casa lui casa sua lui si è messa raccoglie tutte ste robe e poi per fare cosa? ma sull'eterno un attimo i spectator ragazzi cioè io chiedo il vostro primo messo c'è e va bene non solo che è live dunque vi do un annuncio speciale dei 100 iscritti prima live io ve lo dico la rafferbazione lo sappiamo tutti di qua cosa c'è? il castello che è una bomba questo ragazzo questo castello è bellissimo cioè che poi sta parte centrale la parte centrale della vanilla è bella cioè questo lo dovete far dire è bellissima la parte centrale o sbaglio perché se sbaglio se fatemi capire se sbaglio se ho guardato il film allora poi dopo io vorrei fare una costruzione da questo lato una costruzione da questa qua una costruzione qua vorrei decorare con qualcosa dunque a proti devi sbrigare a fare qualcosa quel ci metterà una casetta quel ci metterà una casetta quel ci metterà una casetta del suo canale tipo di lo sfruttere meglio ora c'è un letto dormerò a posare di Luca ma è tanto ovviamente il mio gentile cioè il cavallo che se ne vuole andare che qua dentro a tre mesi poi Luca scusami a quante che non mi interi in vanilla? cioè perché questa è una domanda di rivolta a Luca da quante è che non mi interi? no non è mia Luca però aggiusta le st robe mamma mia che brutta casa cioè non voglio dire che brutta casa no perché ho più sui draghi sapete chi 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 sapete che è quasi quasi io un altro stacchettino anzi non è grande uno stacchettino e lascio tantavolo e ma cioè ne andiamo un pochettino pure lì cioè utilizzarlo e finiamo questi otto guardate che bella che è questa vanilla poi il timer ovviamente si spegne cioè guardate quanto è bella poi questa parte è ancora un po' in progress cioè però questa parte è un adoro qua bisogna fare molte costruzioni ho un bel ponte che collega tutto magari è anche un carrello che porta a un mercato poi questa parte vuole fare là è bello cioè cosa vi devo dire bello mi piace però poi guardate che figo il castello mentre arrivati sempre la sua solita asimmetria e da qui guardate guardate il panorama che ce l'ha sono tornati in momenti di silenzio quando feio si mancavano eh anche se si sono succedi se io ho l'ender pearl ma quando mai non c'ho l'ender pearl ahhh non ci voglio credere no 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 ok andiamo in alto, in alto, in alto troppo in alto, troppo in alto, troppo in alto adesso scendiamo in maniera alleggiata non so se ci stava questo aparo però andiamo guardati per il momento è la render distance ah questo non è la render distance no 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 option video set render distance mettiamo il massimo dei chunks adesso mi laggerai in una maniera guardate che lag una volta che è generale chunk però è tutto andato deve solo generare chunk probabilmente laggera come non mai fatemi rimanere quanti chunk avevo? 13 si avevo 13 chunk ah basta oh perfetto 13 teniamo le mie chunk ok allora io direi di concludere qua ok sono a sbordo con i 15 minuti di massimo della mia durata quindi io direi un bel ciao a tutti e un vedere tutto ciao che è il fenomeno di finanziarsi